Parliamo di forza di attrito radente statico. Statico ad indicare che gli oggetti in gioco sono fermi. Immaginiamo di avere un oggetto posizionato su un piano orizzontale. Io spingo l'oggetto con una forza F. Il risultato è che l'oggetto è fermo. Se l'oggetto è fermo nonostante io lo spinga vuol dire che la forza totale sull'oggetto sarà zero. Questo vuol dire che c'è qualcosa che impedisce all'oggetto di muoversi a destra ed è in particolare una forza di attrito a sinistra. Ora, che io spinga piano o forte l'oggetto rimane fermo. La forza di attrito è una reazione vincolare, cioè una forza che si adatta alla forza che faccio io in modo da mantenere fermo l'oggetto. C'è un oggetto sul piano orizzontale, lo spingo poco, l'oggetto rimane fermo, lo spingo un po' di più, l'oggetto continua a rimanere fermo. La forza di attrito si è adattata. In questo contesto qui avrà lo stesso valore valore della forza F. Quando io raggiungo una certa soglia, oltre quella soglia l'oggetto comincia a muoversi. Cioè la forza di attrito statico ha un valore massimo oltre il quale non può andare. Il massimo valore della forza di attrito statico lo calcolo con la formuletta è il coefficiente di attrito per la forza che schiaccia. Se l'oggetto rimane lì su quel piano vuol dire che c'è una qualche forza che lo schiaccia contro il piano. Il piano quindi reagisce con una reazione vincolare. Ecco perché questa formula la trovate spesso scritta come coefficiente di attrito statico per la reazione vincolare del piano. Il coefficiente di attrito statico dipende dai due materiali a contatto tra loro. E fissati i due materiali il coefficiente di attrito statico sarà sempre maggiore del coefficiente di attrito dinamico. di attrito statico dipende dai due materiali il coefficiente di attrito statico di attrito statico dipende. di attrito statico dipende.